benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi in assenza di psicopatologie o turbe psichiche varie ciascuno di noi uomo donna è in grado di affrontare situazioni di pericolo anche estreme senza per questo perdere di vista la propria umanità anzi costruendo con gli altri esseri umani una sorta di social catena solidale di leopardiana memoria per fare fronte comune contro il pericolo oppure no oppure emergerebbe la bestia che sonnecchia dentro ciascuno di noi per james gran ballard autore di questo piccolo gioiellino distopico che è il condominio è la seconda ipotesi la più la più accreditabile quando il nostro piccolo mondo ci appare minacciato la bestia che è dentro di noi agisce irrompe viene fuori e travolge tutti i possibili nostri avversari il condominio è un palazzo extralusso 40 piani gallerie commerciali palestre saune 2000 persone abitano lì dentro quindi una vera e propria città che riproduce gli schemi della società i piani più bassi i più poveri ai piani centrali la media borghesia nei piani alti i veri ricchi i professionisti gli imprenditori tutto bene quindi tutto il migliore dei mondi possibile sembrerebbe no 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 basta poco basta un piccolo clic affinché non vi dico qual è ovviamente perché tutto cambi perché tutto si trasformi perché queste 2000 persone diventino bestie animali esprimano la loro violenza primordiale si organizzano in bande in gruppi in fazioni l'una contro l'altra più scendeva e più gravi erano i danni le porte antincendio scardinate le finestrelle di controllo al quarzo sfondate i corridoi e le scale che avevano ancora l'illuminazione elettrica erano pochissimi e nessuno si era preso la briga di sostituire le lampadine rotte dalle otto in poi arrivava ben poca luce nei corridoi che si trasformavano in gallerie semi buie disseminate di sacchi della spazzatura gruppi rivali di inquirini si raccoglievano nelle entrate a guardia dei loro ascensori e nei corridoi per sorvegliarsi l'un l'altro molte donne avevano radioportatili a tracolla e passavano da una stazione all'altra come per metterle appunto in vista di una guerra acustica altre portavano invece con sé macchine fotografiche flash pronte a registrare ogni atto stile ogni incursione nel loro territorio immaginate quanto possa essere attualizzabile questa storia quante risorse possa nascondere celare per i nostri per i nostri alunni un esempio su tutti come i cittadini di un mondo evoluto di una civiltà occidentale ricca possano diventare trasformarsi e diventare sospettosi e cattivi in un momento di crisi economica lanciandosi contro i più poveri della terra bene questo era un esempio ma tanti altri ne potrete certamente trovare vi lascio alla prossima grazie e mi raccomando non mancate di venirci a trovare sul nostro sito web e sui nostri canali social grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.